Katy Perry ha fatto un nuovo piercing al naso e ha condiviso il video del momento più doloroso su Instagram. L'ultima volta che l'ho fatto ero da sola con una spillo e un cubetto di ghiaccio a 13 anni. Questa volta ho pensato che fosse meglio affidarmi ad un professionista. Mi dispiace mamma, ancora. Fu temeraria Katy, come tanti adolescenti che credono di poter trasgredire da sole e senza badare alle conseguenze. Il professionista in questione, invisibile per tutto il video, scherza con lei e si scusa per il male inflittole durante la creazione del buco. Chiesi a mia madre il permesso di farlo, ma ovviamente lei me lo rifiutò, così pensai ma è ridicolo. Poi andò a fare una commissione e io non esitai nel prendere una spilla da balia e un pezzo di ghiaccio per trafiggere mio naso da sola. Quando lo vide in seguito pensò che non fosse male come pensava, perché era solo un piccolo diamantino. Purtroppo però ho ancora una terribile cicatrice che da vicino si vede molto. Katy Perry ha anche sei piccoli tatuaggi, ovvero. Gesù è un fiore di loto su polsi, segui la corrente in sanscrito sul suo braccio, una menta piperita, una fragola e un fiore di ciliegio sulle caviglie. Chi se ne frega.